in guerra io ho sempre fatto il mio dovere il 21 ottobre nel 1915 il mio repatto si trovava sul carso vicino a monfalcone quel giorno al mattino e si intensificò il fuoco delle nostre attiglierie che significò il preludio di immancabili avvenimenti proprio in quel momento e venne il cappellano del reggimento per distribuire una medaglietta a ciascuno ma ben pochi in quella frangenza e la accettarono anch'io la ricusai alle 10 ebbe inizio la discesa nel ballone in mezzo a un bombardamento infernale di lì a pochi minuti cominciarono i morti e i feriti un sottotenente e un soldato morti un sergente di artiglieria con le braccia semi amputate il giorno 22 e si contarono un centinaio di morti con circa 300 feriti in mezz'ora 400 fuori combattimento senza arrivare a nessuno scopo certe volte per proteggerci esistavano delle buche chiamate bocche di lupo coperte con assi frasche e pellicce in quell'età non mancavano certo un buon numero i pidocchi affondersi con quelli che già noi e portavamo benissimo i rattoni pure erano nostri alleati in quelle tane e se per caso ci si addormentava o anche solo in dormiveglia venivano quali bestionine ammaestrate a pascolare sui nostri corpi eppure sulle facce tanto era la confidenza che quelle bestie avevano preso con l'umanità pure in bestialità il secondo anno di guerra e sono stato sull'altipiano d'asiago il 30 giugno ci fu battaglia tra monte fior e monte mosiag con tutti i mezzi e tutti gli ordigni di guerra fino allora conosciuti i morti e i feriti da ambo le parti e non si contavano più nemmeno la notte si potevano soccorrere i feriti tanto era la furia e la mischia per diverse notti quando il fragore delle armi aveva qualche tregua non udivamo altro che i feriti con gli arti semi amputati implorare soccorso e si chiamavano mamma i figlioli o la moglie per nome i parenti e gli amici i compagni combattenti fino al momento in cui sopraggiunta la morte per emorragia unica e sola liberatrice di tanto male che facevano e da ottobre eccomi qui mitragliere sul carso nel ballone di doberdo e ci sono continuamente morti e feriti perciò pericolo continuo le rincee e so scavate un po alla meglio il vallone di doberdo è lungo diversi chilometri è un labirinto di innumerevoli cimiteri e quanti sono i reparti che sostarono presero parte a fatti d'armi in questo settore e vi lasciarono i morti e i loro relativi cimiteri le artiglierie non cessano mai di tuonare colpendo sul versante occidentale quindi nel ballone così che ogni giorno assistiamo a questo spettacolo le granate alzano in aria i morti dalle tombe improvvisate per ricadermi nuovamente crivellati trucidati o completamente dispersi in tante piccole particelle sperduti per sempre o distrutti